ciao a tutti amici di youtube di facebook di twitter siamo qua per questo gameplay di gta 5 siamo nella schermata iniziale della playstation iniziamo iniziamo poi sperando che non si blocca lassamo acquisto playstation 4 4 ti mucci spaventi tue che mi stai guardando tu e tu e tu e tu magari tutti e due ho incerto la storia, sei stelle mi sto ricercando. R replay. Ti fa chiudici rockstar rockstar secco di grande faudo 5 l'azienda la polizia tolaste stand cosa un corno caricamento storia anche servono indicazioni ormai ma i giochi della peste centra che si possono usare giusto nella peste centra 4 penso di sì si possono usare allora c'è la peste centra e ora c'è la peste centra e ora c'è la peste centra bel locale così giusto pronto eccolo nella casa bella casa così giusto inizia Riccardo la camminata si esce da qua e passa a me aspetta mai l'ho trovato l'uscita non si esce da qua da me allora siamo in una casa grazie però corre a questi arriviamo domani corre però non riesce ok il telefono davide s3 e fai chiuso sopra e si esce da qua che cazzo di si esce da qua lasciate un messaggio non c'è mai a casa su cristiano allora si esce da qua che dici ciao a tutti ok ciao alla stra una serie aspetta caduta una serie sistemiamola già la stessa ma si esce da questa casa poi chiamiamo la signora della polizia ecco il modo alternativo la tua finestra come si danno le buglie non lo so non mi interessa esce troppo pochino vada ti spacca sto coso il vetro ancora tutto, vai come il muretto del coso delle chiazzette saltiamo come si salta? così non sei morto qua non lo sappiamo hai visto? come si salta? ci fermiamo qua facciamo un autostop visuale di quella pazzesca ti passano la macchina ti passano la macchina così questa corsina non passa e poi le macchine che vengono davanti vediamo facciamo un altro video visuale di quella pazzesca vediamo la faccia è un testito cos'è che vuoi? cosa suoni? mettiamo la macchina questo è bene soccola mi sta parlando una delle scireali non è in italiano ecco neanche è in italiano è rotta abbiamo graffiato la macchina ma di me? non è che vuoi la più? ma puoi portare la macchina? non è non è che vuoi la più? ma è sta schiavettando spaschietta troppo gala sopportare retromarcia retromarcia come ce la possiamo fare ho visto sono più oggi la gta san andrea buonga un bel frontale proprio bambini attimi di stavani e tu anni scelta stagione ti sei in silenzio ho preso tutto il peso e l'ho buttato fuori visto è bella che cos'è un auto di tt no questa questa prendiamoci questa ma non è questa l'auto di tt è bellissimo quando la rompe sto facendo rigida nuova però direttamente gas la sera un po' non è una granata non è cittadina che si può benvenuto pass devo passare carmai qua dammi un attimo efe 10 la macchina posteggiata foto queste bellevare i quali nomi posteggiata non ci si vuole la mamma per fare la foto si possa fare la foto c'è la cimaxi l'ultimo sinistro mafina punti zoom la macchetta fordano testo poi l'acqua attenzione sopra non ci credo è passato non ci credo elimina basta non lo vuoi più il telefono questo metri quando lo legnano mettiamo paura alla gente stai parlando con me scappi scappa scappa direttamente hai una mire che è spettacolare così giusto non muore non muore sta cercando la polizia è morto la cimaxi non c'era mai chi riuscire dall'area di ricerca della polizia ma come si passa la mano libera va bene va bene devi fare verso sotto ok ok la polizia la polizia ci sono da una riuscire guarda ahi subwoofer allora partiamo si è stato male la musica la musica la partiamo subito guarda chi ha letto di via arrazo oppla la polizia già mi hai preso già non sei volato da finissimi non sei morto con un rigido installare massacrato direttamente le portiamo da scendo dall'ospedale qua al cannizzaro siamo al cannizzaro la macchina di primo ospedale bambino oh allora qua c'è una macchina no 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 aiuto defegare la signora scappa prendi questa macchina non ci credo ora puoi scendere puoi iniziare a scendere perché direttamente perché si è presa la macchina ti ho detto di prendere la macchina direttamente grazie no guarda dietro come mi raccomando italia eccola aspetta parte neanche il tempo di accelerare già ma come gira come sta girando no madonna aspetta devo tornare indietro ecco ma ma se hai messo la cintura aspetta se hai messo la cintura se hai messo la cintura non navici tu no eh 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 non ci esci neanche dalla casa la ferrari di dietro spettacolare fermati scendiamo ma sta più bene che ti metti quella del capotacus ora ci bagniamo tutti ci bagniamo ah dai è bellissimo comunque scendi perchè ecco faggio pega su sfaggio si chiama pega su sfaggio là c'è un'altra espra no questa qua eh 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 hai graffiato questa ma fagli mettere il casco come ci metti fermi fermati a costo a costa giusto a costa giusta lo sie ma sette casco integrale casco integrale caso here per la hard ragazzi casco poteri che la macchina dietro di f стали vai parte vediamoci a a b e mio i ok ci vuole questa altrimenti come scappi guarda che sono veloce cambiamo ok c'era una moto c'era una moto si ma il tempo che ci arrivo con questa la moto mi si è andata a scappare con la macchina nuova pulita guarda la facella stotta non so dove siamo siamo sempre dritti siamo sempre dritti scendo a fare il bar ma te dove hai spuntato ancora è là anche lui ancora è là anche lui è morto faccio un panino ora com'era no che c'era la polizia di dietro un panino dai dammi un panino non è il panino non è il McDrive non è il McDrive non ci sono quelli che non leggono le barche panino drive ma questa qua è una speggia nuova allungermi andiamo dritto sempre dritto sempre dritto ecco c'è mare mosso qua non ci cercano più a mare è tornata a galla non ci credo il Titanic che si adagia sul fondo cambiamo le prospettive quelle spettacolari la macchina è nuova ma non mi scende si adagia sul fondo cammina sull'acqua no se ne notiamo perché sennò appunto già non stai morando già hanno fatto una foto è morto molto così molto così va bene dai amici di youtube questo gameplay per oggi è finito ci ritroviamo di nuovo all'ospedale appena la playstation carica questa volta siamo al domino no al domino prima al mondo zona va bene al mondo zona va bene mi piace ci ha fatto divertire abbastanza si spreca le mani e dunque ciao a tutti amici di youtube mi raccomando iscrivetevi qua usciamo dal gioco ciao a tutti alessio e riccardo ciao a tutti